Un albanese richiedente asilo politico è stato arrestato dalla squadra mobile di Pesaro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, un nulla facente, era stato notato dalla polizia mentre scendeva da un treno proveniente dalla vicina Romagna. Infatti uno degli agenti lo aveva riconosciuto come quello già identificato nell'abitazione di un altro connazionale, tratto in arresto per reati connessi al traffico di droga. L'albanese inoltre era in evidente stato di agitazione e non aveva fornito alla polizia una valida giustificazione sulla sua presenza a Pesaro. Dopo una perquisizione le forze dell'ordine hanno rinvenuto sul fondo del borsello portato a tracolla dal sospettato un involucro in cellofane pellicola d'alluminio contenente sassi di cocaina del peso superiore al mezzo etto. La droga che è stata sequestrata avrebbe permesso, una volta tagliata, di confezionare un centinaio di dosi che, vendute a 80 euro l'una, avrebbero consentito un guadagno di circa 8.000 euro. Secondo gli inquirenti, la sostanza stupefacente sarebbe stata destinata alla movida pesarese. Questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto emettendo nei confronti del ventenne la misura cautelare della custodia in carcere. L'operazione segue quella che ha già portato all'arresto di un pesarese con oltre 20 grammi di eroina anche lui proveniente da Rimini e quella relativa all'arresto di un giovane italiano residente a Monbaroccio trovato in possesso di hashish, cocaina, metanfetamine e oppio. In quest'ultimo caso tra i clienti c'era anche un minorenne.